La Regione Abruzzo, attraverso l'assessorato alle politiche sociali, ha premiato sette progetti che garantiscono l'inclusione su tutto il territorio regionale, grazie ad un finanziamento di circa 4 milioni di euro. Tra questi, Stella Maris Lab, nell'ambito del programma FSE 2014-2020, è già nella fase operativa, con un avviso pubblico che mette in campo risorse per circa 570 mila euro, che serviranno a dare un'opportunità concreta a 100 beneficiari ai quali verrà proposto un percorso di orientamento, di formazione e di tirocinio finalizzato all'inclusione lavorativa. Tutto il territorio della provincia di Pescara farà parte di questo progetto, a dimostrazione che poi l'integrazione dei servizi e delle funzioni fondamentali è possibile ed è un giusto monito a chi deve realizzare la nuova Pescara. Si mettono insieme anche tanti animatori sociali, tante associazioni importanti, tra tutte la Caritas, voglio dire creando questo dato di sussidiarietà che aiuta a collegare i bisogni dei cittadini con le istituzioni, le istituzioni verso i bisogni dei cittadini. Quindi è un progetto molto importante di per sé, che se analizzato nelle sue forme di costruzione diventa strategico e può segnare una via anche per il futuro. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata il 28 aprile. Il tirocinio di fine percorso sarà di tre mesi fino a 80 ore mensili con un'indennità fino a 600 euro in base alle ore effettuate. È qualcosa di importante perché l'inclusione sociale è davvero qualcosa di prezioso e di richiesto soprattutto dal territorio e avere un'opportunità come questa rappresenta davvero una bella bocca d'ossiccio soprattutto per delle persone svantaggiate perché questi sono soprattutto i destinatari di questo progetto che hanno notevoli difficoltà a trovare un'occupazione. Tutte le informazioni del bando sono disponibili sul sito del Comune di Pescara.